Che cosa si porta a casa un collega dopo che ha fatto periocampus, ma io spero e quello che è il mio obiettivo è che si porti a casa la capacità di essere indipendente, indipendente nel capire il caso che ha davanti e nel tracciare un piano di trattamento, capire quindi come strumentare le radici, se usare il debrightment piuttosto che scaling, piuttosto che route planning, quale strumentazione utilizzare in quale sito, quindi creare una sorta di abito sartoriale sul caso clinico che abbiamo davanti. Questo credo che sia la più grande eredità che si ha col periocampus foundation, iniziare ad avere un'autonomia di fronte al caso clinico parodontale.